Quando il sedicenne Carlo Rossmann, mandato in America dai suoi poveri genitori, dopo che una domestica lo aveva sedotto e gli aveva messo al mondo un figlio, a bordo della nave, che avanzava a piccola forza entrò nel porto di New York, pensò che la Statua della Libertà, già da un pezzo visibile, splendesse sotto una luce più intensa. Il braccio che brandisce la spada sembrava essersi appena alzato. Intorno alla figura spiravano fresche correnti. «Come è alta!» fece tra sé, mentre la folla dei facchini, che passavano sempre più numerosi, sebbene lui non volesse muoversi, finiva con lo spingerlo contro il parapetto. Un giovane, che aveva appena conosciuto durante il viaggio, gli disse, dirigendosi verso l'uscita, «E lei non ha voglia di scendere. Certo che sono pronto!» fece Carlo ridendo, e sia per vantarsi, sia perché era un ragazzo robusto, si caricò la valigia in spalla. Ma nel seguire con lo sguardo il suo conoscente, che si allontanava facendo oscillare il bastone, si accorse con sgomento che aveva dimenticato l'ombrello in basso. Pregò in fretta il conoscente, che non nascose la sua contrarietà, di aspettare un attimo vicino alla valigia, si guardò intorno per orientarsi in seguito e corse via. Arrivato in basso, ebbe la sgradita sorpresa di trovare chiuso un corridoio che gli avrebbe abbreviato di parecchio la strada. Il provvedimento dipendeva sicuramente dallo sbarco generale. Fu allora costretto a cercarsi la strada tra un'infinità di camerini e di scalette disposti uno dopo l'altro. Corridoio zigzag, una sala immobiliata da una scrivania, e alla fine, poco esperto com'era di quel percorso, fatto soltanto un paio di volte in mezzo alla gente, si smarrì. Non passava più nessuno. Sulla testa sentiva lo scalpiccio di migliaia di piedi. Lontano gli arrivava l'ultimo ansito delle macchine. Perplesso, senza troppo riflettere, cominciò a picchiare contro una porticina che si trovò vicino. «È aperto!» gridarono dall'interno. Carlo, con un respiro di sollievo, spinse la porta. «Ma perché picchia in quel modo?» chiese una specie di gigante, appena lo ebbe visto. Nella stretta cabina, dove si stipavano un letto, un armadio, una sedia e il gigante, arrivava attraverso un piccolo passaggio una luce avara, come se fosse l'avanzo di quello che avevano adoperato in alto. «Mi sono smarrito», disse Carlo. «Durante il viaggio non me ne ero accorto. Ma questa nave non finisce più». «Eh già, ha ragione», disse l'uomo con un certo orgoglio, senza smettere di armeggiare intorno a una valigetta di cui premeva il coperchio per far scattare la serratura. «Ma entri», proseguì. «Non vorrà restare fuori». «Non disturbo», chiese Carlo. «Ma chi dice?» «È tedesco, lei?» chiese ancora a diffidente Carlo, che aveva sentito dei pericoli ai quali ha esposto che arriva in America, soprattutto da parte degli irlandesi. «Proprio così, proprio così», disse l'uomo. Carlo esitò ancora. Allora l'altro, con gesto improvviso, afferrata la maniglia, tirò dentro Carlo e gli chiuse dietro l'uscio. «Non mi va che mi si guardi dal corridoio», disse riprendendo ad armeggiare intorno alla valigia. «Ognuno che passa guarda dentro. Si finisce col perdere la pazienza». «Ma se nel corridoio non c'è nessuno», disse Carlo, che era finito contro il letto. «Sì, adesso», disse l'uomo. «E non è di adesso che si parla», pensò il ragazzo. «È difficile intendersi con costui». «Si sieda sul letto, starà più comodo», disse l'uomo. Carlo strisciò nella cuccetta come meglio poter, ridendo per il vano tentativo di entrarci con un salto. Ma appena seduto gridò, «Bontà divina, la mia valigia!» «E dov'è?» «In coperta, un conoscente me la sta guardando. Come si chiama?» Da una tasca segreta, che la madre, in occasione del viaggio, gli aveva cucito nella giacca, tirò fuori un biglietto da visita. «Butterbaum, Francesco Butterbaum». «Ci tiene molto alla sua valigia?» «Certo». «E allora, perché l'ha affidata a un estraneo?» «Avevo dimenticato l'ombrello e sono corso a riprenderlo. Non volevo portarmi dietro la valigia». «Poi mi sono perso». «È solo? Non l'accompagna nessuno?» «Solo?» «Forse farai bene ad affidarmi a quest'uomo», pensò Carlo a questo punto. «Dove trovare su due piedi un amico migliore?» «E ora ha perduto anche la valigia. Sull'ombrello facciamoci una croce». L'uomo sedette sulla sedia, come se la faccenda di Carlo cominciasse a interessarlo. «Ma io non credo che la valigia sia perduta». «Beato chi ha fede», disse l'uomo, grattandosi i capelli neri e fitti, tagliati corti. «Ma su una nave ci sono tanti costumi, quanti i porti che si toccano!» Ad Hamburgo il suo signor Butterbaum avrebbe forse guardato la valigia. Qui invece credo che lei non troverà più l'ombra né dell'uno né dell'altra. «Bisogna pure che vada a dare un'occhiata lassù», disse Carlo, guardandosi intorno per cercare l'uscita. «Stia fermo», disse l'uomo, e con una manata sul petto piuttosto brusca lo ributtò indietro. «E perché?», chiese Carlo con stizza. «Perché sarebbe assurdo», disse l'uomo. «Tra un istante vado via pure io. Ce ne andiamo insieme. Se la valigia è stata rubata, tutto è inutile. Se invece l'uomo l'ha abbandonata, la troveremo più facilmente quando la nave sarà vuota. Lo stesso per il suo ombrello. «Lei è pratico della nave», chiese Carlo con diffidenza, come se l'idea in sé ragionevole che la valigia si sarebbe trovata meglio a nave vuota nascondesse un inganno. «Sono un fuochista», disse l'uomo. «Lei è un fuochista», chiese Carlo in tono gioioso, come a una splendida, imprevista notizia, e appoggiandosi sui gomiti si sporse per vedere meglio l'uomo. Davanti alla cabina dove dormiva con gli slovacchi, c'era uno sportellino, attraverso il quale si poteva guardare nella sala macchina. «Lavoravo proprio là», disse il fuochista. «La tecnica è sempre stata la mia passione», disse Carlo come parlando tra sé. «Un giorno sarei sicuramente diventato ingegnere se non fossi dovuto partire per l'America». «E perché dovette partire?» «Ah, è una storia», fece Carlo, e con un gesto volle allontanare quell'argomento da sé. Guardò sorridendo il fuochista, come per chiedergli scusa se non si confidava con lui. «Ci sarà stata una ragione», disse il fuochista. Non si capiva se per sollecitare o respingere il racconto di quella ragione. «Potrei anche diventare fuochista», disse Carlo. «Ai miei genitori non importa più niente di quello che farò». «Il mio posto è libero», disse il fuochista. «E come gustando la sicurezza che gli veniva da queste parole. mise le mani in tasca e allungò le gambe fino a raggiungere il letto con i suoi calzoni spiegazzati di una stoffa grigio ferro che sembrava cuoio. Carlo dovette stringersi ancora di più contro la parete. Lascia la nave? Sì, stasera ce la battiamo. Perché non le piace? Quello che conta sono i fatti, non ciò che piace o non piace. Ma poi, in fondo, ha ragione lei. Non mi piace. Spero che non penserà sul serio di diventare fuochista, anche se è facile che lo diventi proprio per questo. Per me lo sconsiglio. Se voleva studiare in Europa, perché non fa lo stesso qui? Le università americane sono infinitamente migliori di quelle europee. Lo credo, disse Carlo, ma non ho i mezzi per studiare. Ho letto non so dove di un ragazzo che di giorno lavorava in un negozio e di notte studiava. Diventò dottore, poi sindaco. Ma per questo ci vuole una bella costanza, no? Io ho paura di non averla. Devo aggiungere che non ero uno scolaro d'eccezione e lasciare la scuola non mi dispiacque troppo. Magari le scuole qui sono ancora più severe. L'inglese lo conosco poco o niente. Aggiunga la prevenzione che c'è per gli stranieri. L'ha già notato? Beh, allora andiamo bene. Vedo che ci capiamo. Siamo a bordo di una nave tedesca di proprietà della Hamburg-America Linie. Perché ci sono così pochi tedeschi? Perché il capomacchinista un certo Schubal è un rumeno. Un roba da non credere. Quel miserabile ha il coraggio di perseguitare noi tedeschi su una nave tedesca. Non pensi. Gli mancò il fiato e dovette farsi aria con la mano. Non pensi che io mi lamento tanto per fare. So che lei non ha nessuna influenza che è un povero ragazzo. Ma è il troppo stroppia. Con ciò si mise a dare pugni sul tavolo senza distogliere lo sguardo da Carlo. Sono stato imbarcato su una quantità di navi e qui elenco ad un fiato venti nomi finché Carlo girò la testa. E mi sono distinto. Ho avuto elogi. Lavoravo come piaceva ai miei capitani. Per anni rimasi sulla stessa nave a vela. Si alzò come se quello fosse stato il momento più significativo della sua vita. E qui su questa carretta dove tutto funziona a puntino dove non serve spreco di cervello qui non valgo niente. Sono di disturbo al signor Shubal. Sono un pelandrone. Merito di essere cacciato via. Mi danno la paga per carità. Lei ci capisce niente? Io no. Non dovrebbe farsi trattare così disse Carlo con vivacità. Si sentiva a suo agio su quel letto in un'atmosfera così familiare che quasi aveva dimenticato di trovarsi sulle tavole malferme di una nave sulle coste di un continente sconosciuto. È andato dal capitano? Si è fatto sentire? Vada via per carità non lo voglio più con me. Non ascolta quello che dico e mi dà consigli. Come potrai andare dal capitano? Si rimise a sedere come per un'improvvisa stanchezza tenendo il volto tra le mani. Non saprei cosa consigliarle di meglio disse Carlo tra sé. Penso che avrebbe fatto meglio ad andare a prendere la sua valigia invece di stare lì a dare consigli considerati sciocchi. Le consegnanti la valigia suo padre gli aveva chiesto il tono scherzoso quanto ti durerà? E ora quell'oggetto tanto caro era forse perso sul serio. Lo consolò l'idea che suo padre non avrebbe potuto sapere niente nemmeno se avesse chiesto informazioni. La compagnia di navigazione poteva solo dire che era arrivato a New York. Si rammaricò invece di non avere adoperato niente di quanto c'era nella valigia se bene avesse bisogno da un pezzo per esempio di cambiarsi la camicia. Aveva fatto economia inutili mentre all'inizio della carriera era bene che si presentasse in ordine bello pulito avrebbe dovuto farsi vedere con una camicia sporca. Non fosse stato per questo la perdita della valigia non sarebbe stata troppo grave perché l'abito che indossava era migliore di quello che era nella valigia un capo da strapazzo che la mamma aveva rammendato poco prima della partenza. gli venne in mente che nella valigia c'era anche un pezzo di salame di Verona regalo supplementare della mamma appena assaggiato perché durante la traversata aveva avuto scarso appetito e la zuppa distribuita sul ponte gli era stata più che sufficiente. Ma ora gli sarebbe piaciuto avere il salame per offrirlo al fuochista basta una piccolezza per conquistare gente simile aveva imparato Carlo da suo padre il quale con una sigaretta conquistava i piccoli impiegati con cui trattava. La sola cosa che Carlo poteva offrire era il denaro ma per il momento specie se la valigia era andata perduta non voleva toccarlo. Tornò a pensare alla valigia non poteva darsi pace che durante il viaggio l'avesse sorvegliata con tanta attenzione fino a perderci il sonno per farsela poi portare via in quel modo. Si ricordò delle cinque notti in cui lo assillò l'idea che il piccolo slovacco due cucette a sinistra dopo la sua puntasse la valigia. Lo slovacco aspettava che Carlo vinto dalla stanchezza si appisolasse un attimo per tirare a sé la valigia con un lungo bastone che gli serviva per giocare o fare esercizi. Alla luce del giorno aveva una faccia innocente ma scesa la notte si alzava ogni tanto a sedere sul suo giaciglio e fissava con uno sguardo triste la valigia di Carlo. Carlo l'aveva notato perché c'era sempre qualcuno che con l'inquietudine propria dell'emigrante trasgredendo al regolamento accendeva un lumino cercando di decifrare il prospetto incomprensibile di un'agenzia di viaggio. se la luce era vicina Carlo poteva isolarsi un momento se era lontana o era buio completo doveva tenere gli occhi aperti una così lunga vigilanza lo aveva sfinito e forse non era servita a niente ma se una volta si imbatteva in quel butterbaum a questo punto nel silenzio assoluto che si era stabilito si sentì lontana una successione di lievi e rapidi colpi come prodotti da piedi infantili il rumore diventò più forte era un gruppo di persone che si avvicinava dovevano avanzare in fila indiana vista la strettezza del corridoio e ogni tanto si sentiva un tintinnio come di armi Carlo sul punto di abbandonarsi a un sonno che lo liberasse da ogni preoccupazione per la valigia e lo slovacco si alzò di soprassalto e scosse il fuochista il corteo sembrava ormai giunto davanti alla porta è la banda di bordo disse il fuochista hanno suonato e vanno a fare i bagagli è finito tutto possiamo andare venga prese Carlo per mano afferrò ancora un quadretto con l'immagine della Madonna appeso sopra la cucetta se lo ficcò nella tasca interna afferrò la valigia e lasciò svelto la cabina ora vado in amministrazione e canterò a quei signori quello che ho in corpo i passeggiari sono sbarcati e non è più il caso di avere riguardi il fuochista camminando continuava a ripetere quest'intenzione più o meno con le stesse parole provò anche a schiacciare una pantegana che gli aveva attraversato la strada riuscendo solo a farla infilare più in fretta nel suo buco aveva gambe lunghe ma pesanti lente a muoversi attraversarono un reparto della cucina dove alcune ragazze con i grembiuli sudici forse li sporcavano di proposito rigovernavano vicino a grandi mastelli il fuochista chiamò una certa lina le mise un braccio attorno alla vita e se la portò dietro per un tratto mentre quella civettuola gli si stringeva il braccio è il momento della paga vieni anche tu chiese perché devo scomodarmi portami tu i soldi rispose quella gli sgusciò di sotto il braccio e corse via dove hai incontrato quel bel figliuolo chiese poi senza aspettare risposta le ragazze che avevano interrotto il lavoro risero tutte insieme continuarono a camminare finché non arrivarono davanti a una porta sormontata da un palchetto con minuscole cariate di dorate un lusso insolito per una nave carlo si accorse di non essere mai passato da quelle parti forse riservate durante la traversata e passeggiali di prima e seconda classe e accessibili a tutti solo adesso prima che la nave venisse sottoposta alla pulizia generale come sembrò evidente alla vista di alcuni uomini con la granata sulle spalle che salutarono il fuochista carlo fu impressionato dalle proporzioni dell'insieme nel traponte aveva potuto vedere ben poco lungo i corridoi correvano i fili della corrente elettrica un campanello trillava senza sosta il fuochista picchiò rispettosamente e quando sentì dire avanti invitò con un gesto il compagno ad entrare senza timore carlo entrò fermandosi vicino alla porta dalle tre finestre della sala vedeva le onde del mare scorgendo quel gioioso movimento il cuore gli batte più forte come se non avesse visto il mare per cinque giorni di fila grandi navi incrociavano le loro rotte oscillando appena sotto la spinta delle onde a socchiudere gli occhi sembrava che l'oscillazione dipendesse dalla loro mole in cima agli alberi fremevano tesi al vento lunghi e sottili vessilli da una nave da guerra risuonarono colpi a salve una corazzata passò a breve distanza corrucciata nel suo mantello d'acciaio coi cannoni che sembravano cullati dalla marcia uniforme e sicura visti dalla porta i vapolini e le barche che sciamavano tra le navi sembravano lontanissimi ma dietro tutto questo New York fissava carlo con le centomila finestre dei suoi grattacieli in quella sala uno poteva sapere dove si trovava intorno a un tavolo rotondo sedevano tre signori un ufficiale di marina in uniforme blu e due funzionari portuali americani in divisa nere sul tavolo erano mucchi di documenti che l'ufficiale scorreva tenendo la penna in mano e poi porgeva gli altri i quali ora leggevano ora prendevano appunti ora riponevano i fogli nelle loro cartelle ogni tanto uno dei due che continuava a fare un piccolo verso coi denti dettava qualche parola al collega vicino a una finestra tirando le spalle alla porta un omino sedeva a una scrivania consultando certi grandi registri allineati su una solida tavola fissata alla parete all'altezza della sua testa aveva vicino una cassetta di sicurezza aperta e a quanto pareva vuota la seconda finestra era sgombra e offriva una vista incantevole vicino alla terza parlottavano due uomini uno in divisa si appoggiava al davanzale giocando con l'elsa della spada l'altro in abiti civili era girato con le mani sui fianchi verso la finestra e muovendosi scopriva ogni tanto un po' dei nastrini che decoravano il petto dell'ufficiale il bastoncino di bambù che stringeva nella destra sporgeva in fuori come una spada Carlo non ebbe tempo di guardare bene ogni cosa si avvicinò a un commesso e chiese il fuochista cosa voleva guardandolo come se entrare di dentro avesse perpetrato una sconvenienza il fuochista a voce altrettanto bassa rispose che voleva parlare con il cassiere capo il commesso abbozzò un gesto come per respingere la domanda tuttavia in punta di piedi andò dal signore dei registri disegnando una gran curva per evitare il tavolo rotondo il signore sembrò sballordito alle parole del commesso si girò verso l'uomo che chiedeva di parlargli e agitò in segno di diniego le mani sia verso il fuochista sia per sicurezza verso il commesso questo ritornò dal fuochista e col tono di chi fa una confidenza mormorò esca immediatamente il fuochista guardò Carlo quasi lì fosse il suo cuore nel quale confidare muto le sue pene Carlo senza porre tempo in mezzo attraversò di corsa la sala sfiorando la sedia dell'ufficiale subito il commesso lo inseguì curvo le braccia pronte alla presa quasi avesse da catturare un insetto ma Carlo arrivò prima al tavolo del cassiere e si aggrappò al suo bordo nel caso che il commesso volesse provare a tirarlo via l'incidente produsse una certa agitazione l'ufficiale vicino al tavolo saltò in piedi i due funzionari portuali rimasero ad osservare tranquilli ma attenti i signori vicino alla finestra si accostarono mentre il commesso consapevole di non essere più al suo posto in mezzo ai potenti si faceva indietro accanto alla porta il fuochista aspettava fremente il momento in cui ci fosse stato bisogno del suo aiuto il cassiere capo descrisse sulla sua poltroncina un ampio giro verso destra incurante di scoprire il segreto agli occhi di quei signori Carlo frugò nella tasca interna tirò fuori il passaporto e lo posò aperto sul tavolo per evitare una presentazione il cassiere non sembrò dare importanza al documento che allontanò con due dita Carlo quasi avesse compiuto una formalità indispensabile rimise il passaporto in tasca mi permetto di dire cominciò che il fuochista è stato forse trattato ingiustamente un certo Schubal ce l'ha con lui ha navigato con onore su molte navi che può elencarvi tutte è un buon lavoratore appassionato del mestiere non si capisce perché proprio su questa nave dove il lavoro non è poi tanto pesante rispetto a quello dei velieri per esempio dovrebbe aver dato cattiva prova solo una calunnia può impedirgli di farsi strada privandolo di quei riconoscimenti che non gli sarebbero altrimenti mancati questo è il quadro generale i particolari gli esporrà lui Carlo aveva parlato a tutti i presenti perché visto che tutti stavano in ascolto poteva sperare giustizia più da loro che dal cassiere aveva avuto poi l'accortezza di non dire che conosceva il fuochista solo da poco in ogni modo avrebbe parlato molto meglio se non fosse stato confuso dal viso rosso del signore col bastoncino di bambù che dal punto in cui si trovava vedeva per la prima volta è la verità parola per parola disse il fuochista prima che qualcuno avesse pensato a interrogarlo prima anzi che si fossero girati a guardarlo la precipitazione del fuochista avrebbe potuto essere un grave errore se il signore con le decorazioni nei quali all'improvviso Carlo riconobbe il comandante non avesse dato a vedere di voler ascoltare il fuochista tesa la mano gridò venga qui lei con una voce che si sarebbe potuta battere con il martello tanto era dura ora tutto dipendeva da come il fuochista si sarebbe comportato perché Carlo non aveva nessun dubbio sulla giustizia della sua causa nell'occasione per fortuna il fuochista rivelò la sua pratica del mondo con calma e decisione esemplari tirò fuori dalla valigetta un plico e un tacuino quindi ignorando il cassiere andò dritto dal comandante e spiegò sul davanzale i documenti al cassiere non rimase altro che alzarsi ed avvicinarsi quest'uomo è un famoso attaccabrighe spiegò passa più tempo in amministrazione che in sala macchine ha fatto disperare quest'ottima pasta di chubal mi ascolti bene disse rivolto al fuochista lei ora esagera dica quante volte è stato cacciato via dall'ufficio paga per le sue assurde pretese dica quante volte è corso da me alla cassa quante volte non ne hanno ripetuto che il suo diretto superiore è chubal che lei deve trattare solo con lui come osa presentarsi qui quando c'è il signor comandante non si vergogna di importunare anche lui non ha ritegno di mandare avanti questo ragazzo perché ripeta le sue insulse accuse lui poi non lo conosco lo vedo per la prima volta sulla nave Carlo si trattegna astento dal saltargli addosso ma il comandante disse sentiamo quest'uomo ancora una volta lo chubal mi sta prendendo da qualche tempo un po' la mano con questo non voglio dire niente in suo favore intendiamoci le ultime parole erano rivolte al fuochista era evidente che non poteva prendere subito le sue parti ma le cose si mettevano bene il fuochista cominciò a spiegare le sue ragioni e subito si mostrò all'altezza della situazione chiamando lo chubal signore Carlo gongolava vicino allo scrittorio abbandonato dal cassiere e per la gioia continuava a premere il piatto di una bilancetta per le lettere il signor chubal è ingiusto il signor chubal protegge gli stranieri il signor chubal aveva espulso il fuochista dalla sala macchine e l'aveva mandato a pulire i cessi mansione non certo di pertinenza di un fuochista a un certo momento vennero manifestati dei dubbi sulla perizia del signor chubal che doveva essere più apparente che reale Carlo fissava con uno sguardo affettuoso da collega il comandante perché non si lasciasse influenzare sfavorevolmente da certe espressioni poco corrette del fuochista da tanti discorsi però non emergeva niente di concreto e se anche il comandante continuava a guardare davanti a sé mostrandosi deciso ad ascoltare questa volta il fuochista fino alla fine gli altri signori diventarono impazienti la voce del fuochista brutto segno non dominò più incontrastata nella sala il signore in borghese cominciò ad agitare il bastoncino di bambù e a dare colpetti sul pavimento gli altri signori cominciarono a guardarsi intorno distratti i funzionari portuali che avevano fretta tornarono alle loro pratiche e ricominciarono sia pure senza troppo impegno a esaminarle l'ufficiale si riavvicinò al tavolo e il cassiere capo che credeva di aver partita vinta tirò ironicamente il suo profondo sospiro unico a non distrarsi sembrava il commesso il quale accennava a Carlo con la testa come per dirgli qualche cosa certo provando nel suo cuore le pene del pover uomo alla merce dei superiori davanti alle finestre continuava a trascorrere la vita del porto passò una chiatta perfettamente equilibrata col suo immenso carico di botti e oscurò per un momento la sala i battelli a motore che ora Carlo se avesse avuto il tempo avrebbe potuto vedere da vicino scivolavano via rombanti sotto le mani dell'uomo dritto vicino al timone dalle acque agitate emergevano strani oggetti che poi le onde coprivano sottraendoli allo sguardo meravigliato le barche dei transatlantici avanzavano sotto l'energica spinta dei marinai i passeggeri sedevano immobili anche se con aria preoccupata al posto loro assegnato solo qualcuno girava il capo per seguire il cambiamento di scenario si assisteva a un movimento senza fine a un'agitazione che dall'elemento inquieto si trasferiva sui poveri uomini e sulle loro opere tutto ciò spingeva a sbrigarsi a essere chiari e precisi cosa faceva invece il fuochista coperto di sudore incapace di tenere tanto le mani gli tremavano le carte spiegate sul davanzale continuava a parlare le accuse contro Shubal gli facevano ressa nella testa una sola secondo lui sarebbe stata sufficiente per annichilire il rivale purtroppo al comandante arrivava soltanto un balbettio quasi incomprensibile il signore con il bastoncino di bambù da un pezzo fischiettava guardando il soffitto i funzionari portuali avevano richiamato al loro tavolo l'ufficiale e non mostravano l'intenzione di lasciarlo il cassiare si tratteneva dall'intervenire solo perché il comandante era tanto calmo il commesso sull'attenti aspettava da un momento all'altro un ordine del comandante Carlo capì che non poteva più rimanere passivo si avvicinò piano al gruppo pensando rapidamente a come affrontare la situazione non c'era più tempo ancora un momento e potevano volare via dall'ufficio il comandante doveva essere un buon uomo e forse aveva una ragione particolare per sembrare come un superiore imparziale ma non si poteva poi approfittare troppo come appunto stava facendo il fuochista nella sua ira Carlo disse al fuochista parli in modo più semplice più chiaro il signor comandante non capirà niente se lei continua in questo modo lei crede che il signor comandante sappia il cognome o magari il nome di tutti i macchinisti e di tutti gli aiuti lei crede che quando ne nomina uno il signor comandante capisca subito di chi si tratta ordini bene i motivi di reclamo dica prima ai più gravi poi via via agli altri forse non dovrà nemmeno arrivare alla fine a me l'ha sempre raccontato tutto con tanta chiarezza se in america è consentito rubare valigie ogni tanto sarà anche permessa qualche bugia pensò per scusarsi se almeno il suo discorso avesse potuto servire ma non era troppo tardi il fochista si interruppe appena sentì la voce conosciuta ma con la vista offuscata dalle lacrime per l'onore offeso per le spaventose rievocazioni per l'angoscia presente non poteva nemmeno riconoscere Carlo come poteva a quel punto Carlo leggere nell'animo dell'uomo sconcertato parlare in altro modo se da una parte pensava di aver esposto tutto quanto aveva da dire senza nessun successo e dall'altra gli sembrava che sebbene non avesse ancora detto niente non poteva pretendere da quei signori di ascoltare tutto da capo e proprio ora interviene Carlo il suo unico sostenitore per dargli buoni consigli ma riesce solo a fargli capire che tutto tutto è perduto se mi fossi fatto avanti prima invece di guardare dalla finestra si disse Carlo chinò la testa davanti al fuochista e lasciò cadere le braccia per significare che non sperava niente ma il fuochista capì male immaginando che Carlo con quel gesto intendesse rimproverare se stesso per dissuaderlo prese un tono litigioso finendo col rovinare ogni cosa questo quando i signori al tavolo rotondo già da un pezzo mostravano la loro indifferenza per l'inutile rumore che li disturbava nel lavoro quando il cassiere capo cominciava a non capacitarsi della pazienza del comandante era ormai vicino ad esplodere quando il commesso tornato nel campo dei suoi padroni misurava il fuochista con sguardi rabbiosi quando il signore col bastoncino di bambù al quale il comandante riservava ogni tanto un'occhiata amichevole indifferente anzi seccato nei confronti del fuochista alzava in silenzio lo sguardo su Carlo e lo riabbassava su un'agenda che aveva tolto di tasca va bene va bene disse Carlo che faticava a contenere la fiumana di parole riversata ora su di lui e gli rivolse un sorriso amichevole senza badare al tono litigioso lei ha ragione ragionissima non ne ho mai dubitato per timore che finisse col dare qualche colpo avrebbe voluto tenergli ferme le mani o meglio ancora avrebbe voluto spingerlo in un angolo per sussurrargli qualche parola e invitarlo alla calma ma il fuochista era ormai fuori di sé Carlo fu in un certo qual modo consolato dall'idea che in caso estremo con la forza della disperazione il fuochista poteva tenere a bada i sette uomini presenti d'altronde sullo scrittoio c'era un quadro di comando pieno di pulsanti sarebbe bastato schiacciarli con una mano per fare insorgere la nave coi suoi corridoi pieni di gente ostile a questo punto il signore con il bastoncino di bambù che si era sempre mostrato indifferente si avvicinò a Carlo e chiese con voce non forte ma chiara abbastanza per essere sentita sopra le grida del fuochista come si chiama lei quasi avesse aspettato dietro la porta la domanda del signore qualcuno picchiò il commesso guardato il comandante e avuto un cenno di assenso andò ad aprire apparve un uomo di statura media con indosso una vecchia giubba di colore antiquato che proprio non lo si sarebbe preso per un macchinista era Schubal se Carlo non l'avesse capito dalla soddisfazione se Carlo non l'avesse capito dalla soddisfazione apparsa negli occhi se Carlo non l'avesse capito dalla soddisfazione apparsa negli occhi di tutti se ne sarebbe accorto con spavento dal movimento del fuochista il quale allungò le braccia e strinse i pugni con tanta passione da far credere che era disposto a giocare il tutto per tutto nei pugni aveva tutta la sua forza anche quella che ora lo teneva in piedi eccola il nemico felice e contento nell'abito della festa una cartella sotto il braccio con dentro forse il ruolino paga e il libretto di lavoro del fuochista che guardava uno dopo l'altro i presenti con il proposito evidente di saggiarne l'umore quei sette dovevano essere tutti dalla sua parte anche se il comandante aveva avuto prima qualche cosa da obiettare ma forse era stato solo un pretesto dopo la rabbia che gli aveva fatto prendere il fuochista non poteva più dire niente contro Shubal nei confronti di un tipo come il fuochista non c'era punizione abbastanza severa e Shubal meritava un rimprovero era di non essere riuscito ancora a vincere la traccotanza del fuochista arrivata al punto da portarlo davanti al comandante ma forse c'era ancora una speranza il contradditorio tra Shubal e il fuochista avrebbe avuto risultati positivi un guizzo della sua malvagità poteva bastare per scoprirla intera a quei signori ci avrebbe pensato Carlo conosceva abbastanza l'intelligenza le debolezze gli umori di ognuno e da questo punto di vista il tempo passato fino a quel momento non era andato perso e il fuochista si fosse comportato a dovere purtroppo si vedeva che era inadatto alla lotta avrebbe potuto spaccare a pugni la testa odiosa di Shubal se glielo avessero consegnato ma da solo non avrebbe mai fatto i due passi che lo separavano da quello perché Carlo non aveva previsto un'eventualità così facile che Shubal cioè sarebbe venuto se non di sua iniziativa almeno chiamato dal comandante perché strada facendo non aveva discusso col fuochista un preciso piano di guerra invece di infilarsi senza la minima preparazione nella prima porta capitata davanti il fuochista avrebbe potuto ancora parlare dire di sì o di no ammesso che ci fosse stato un contraddittorio e ne stava là la gambe larghe le ginocchia tremanti la testa alta con l'aria che gli passava a fatica attraverso la bocca spalancata quasi che non avesse più polmoni Carlo in ogni modo si sentiva forte e lucido come prima non era mai stato l'avessero visto i suoi genitori mentre difendeva una giusta causa davanti a personaggi importanti non aveva ancora vinto ma si preparava ad affrontare la battaglia decisiva si sarebbero ricreduti sul suo conto lo avrebbero lodato facendolo sedere tra di loro lo avrebbero guardato una volta una volta negli occhi nei quali c'era tanta devozione per loro domande difficili poste in un momento poco opportuno sono qui perché credo che il fuochista mi accusi di non so quali disonestà una ragazza della cucina mi ha detto di averlo visto dirigersi da questa parte signor comandante loro tutti i signori qui presenti mi dichiaro pronto a confutare ogni capo di imputazione sulla base dei miei documenti e se sarà il caso attraverso l'ascolto di testimoni imparziali in nessun modo subordinati in attesa dietro la porta così Shubal era un discorso chiaro da uomo che si rispetta dalle mutate espressioni dei presenti si sarebbe potuto credere che questi tornavano a sentire dopo parecchio tempo suoni umani tuttavia non vedevano che il bel discorso aveva le sue magagne perché la prima parola che si era presentata alla mente di Shubal era disonestà si poteva imperneare l'accusa su questo punto invece che sulle parzialità nei confronti dei connazionali era bastato che una ragazza della cucina avesse visto il fuochista avviarsi verso l'ufficio perché Shubal capisse tutto o non era stato un senso di colpa a dargli quella sensibilità aveva portato subito dei testimoni aveva avuto il coraggio di definirli non subordinati era un imbroglio solo un imbroglio come potevano quei signori accettare tutto questo e giudicarlo onesto perché aveva lasciato passare tanto tempo tra l'annuncio della ragazza e il suo arrivo perché voleva che il fuochista stancasse tanto i signori da far perdere loro la capacità temuta più di ogni altra cosa di un retto giudizio sebbene si trovasse da un pezzo dietro la porta non aveva picchiato proprio nel momento in cui la domanda inopinata di quel signore poteva fargli sperare che il fuochista era spacciato tutto ciò era chiaro mostrato anzi anche se non di proposito dallo stesso Shubal ma quei signori avevano bisogno di vederlo in modo diverso più immediato bisognava scuoterli su via Carlo svelto approfitta ora del tuo tempo prima che entrino i testimoni e confondano tutto in questo momento il comandante accennò di no con il capo a Shubal e questi visto che il suo turno sembrava rinviato di qualche minuto si fece da parte cominciando con il commesso una conversazione a mezza voce illustrata da occhiate in direzione di Carlo del fuochista e da gesti eloquenti sembrava provare la sua grande orazione voleva chiedere qualche cosa al ragazzo signor Giacomo disse il comandante nel silenzio generale al signore con il bastoncino di bambù proprio così disse quello ringraziando per l'attenzione con un lieve inchino e ancora una volta chiese a Carlo come si chiama lei Carlo convinto che nell'interesse di quello che gli stava a cuore era bene liberarsi presto da quello ostinato non si presentò come era a sua abitudine mostrando il passaporto ma disse in fretta Carlo Rossmann ma no fece il signore chiamato Giacomo e indietreggiò sorridendo incredulo anche il comandante l'ufficiale il cassiere persino il commesso sembrarono sbalorditi nel sentire il nome di Carlo solo i funzionari portuali e Schubal rimasero indifferenti ma no ripete il signor Giacomo muovendo con un fare quasi cerimonioso verso Carlo se è così io sono tuo zio Carlo e tu sei il mio caro nipote me lo diceva il cuore tutto il tempo disse il comandante prima che abbracciasse e baciasse Carlo che rimase immobile e senza parole e lei come si chiama chiese Carlo cortesima freddo quando si sentì libero cercò di pesare le conseguenze che il fatto nuovo poteva avere per il fuochista per il momento Schubal non poteva ricavare nessun vantaggio dalla faccenda ma si rende conto caro ragazzo della sua fortuna disse il comandante come se la domanda di Carlo avesse leso la dignità del signor Giacomo questo intanto si era girato contro la finestra e si passava un fazzoletto sul viso alterato dalla commozione la persona che si è presentata come il suo zio è il senatore Edoardo Giacomo l'aspetta contro ogni sua aspettativa una brillante carriera si renda dunque conto di questo anche se non è facile e sia bravo io ho uno zio Giacomo in America disse Carlo volgendosi al comandante ma se ho ben capito il senatore si chiama Giacomo di cognome precisamente disse il comandante aspettando il seguito ma mio zio Giacomo fratello di mia madre si chiama Giacomo per nome di battesimo ma il suo cognome naturalmente dovrebbe essere uguale a quello di mia madre che da ragazza era una Bendelmeier signori eschiamò il senatore allontanandosi tutto allegro alla dichiarazione di Carlo dalla finestra tutti tranne i funzionali del porto scoppiarono a ridere con più o meno calore non mi è sembrato di aver detto cose tanto ridicole pensò Carlo signori ripete il senatore contro la mia e la loro intenzione assistono a una piccola scena di famiglia non posso quindi fare a meno di fornire loro una spiegazione perché a quanto mi risulta solo il comandante e la citazione provò uno scambio reciproco di inchini e al corrente di tutto da ora in poi dovrò stare attento a ogni parola che dirò si disse Carlo e fu facile quando con un'occhiata si accorse che la vita cominciava a rifluire nel corpo del fochista dall'inizio molto indietro nel tempo del mio soggiorno americano scusate questo soggiorno tanto poco appropriato per il cittadino americano che sono io con tutta l'anima da quell'inizio dunque io ho troncato ogni rapporto con i miei parenti europei per ragioni che qui non c'entrano e che mi fa male toccare non posso pensare al momento in cui dovrò forse raccontarle al mio nipotino perché temo di essere costretto a parlargli chiaro dei suoi genitori e della loro cerchia è mio zio non c'è dubbio si disse Carlo prestando l'orecchio forse ha cambiato nome i genitori dunque e diciamo pure la parola visto che corrisponde ai fatti si sono sbarazzati di questo figuolo come si butta fuori di casa un gatto che disturba non cerco attenuanti per quello che ha commesso mio nipote si tratta di una colpa che solo a nominarla si scusa da sé mica male pensò Carlo ma non voglio che lo racconti a tutti del resto non può nemmeno saperlo come ci sarebbe riuscito a riferire le cose come andarono continuò lo zio che puntato il bastoncino come il pavimento si piegava avanti e indietro riuscendo a togliere ogni accento di gravità alle sue parole venne sedotto da una donna di servizio una certa Giovanna Brummer che aveva allora un 35 anni con la parola sedotto non vorrei dispiacere a mio nipote ma è difficile trovare un'espressione più adatta Carlo che si era avvicinato allo zio si girò per leggere sul volto dei presenti l'impressione prodotta dal racconto nessuno rideva tutti ascoltavano serie composti dopo tutto non si ride del nipote di un senatore alla prima occasione se qualcuno guardava Carlo con un sorriso sia pure accennato questi era il fochista bisognava essere lieti di questo segno di vita e considerarlo con indulgenza visto che Carlo aveva fatto misteri su circostanze poi rese pubbliche ora questa Brummer continuò lo zio ebbe un figlio da mio nipote un bel maschietto al quale venne dato il nome di Giacomo la mia modesta persona sia pure attraverso gli accenni di mio nipote dovette produrre una grande impressione sulla donna una vera fortuna per non dover pagare gli alimenti o per evitare di essere coinvolti in uno scandalo ripeto che non conosco le leggi di laggiù nelle condizioni della famiglia i genitori dunque spediscono in America il mio nipotino scandalosamente sprovvisto di tutto come vedete il ragazzo non fosse stato per uno di quei prodigi che ancora succedono in America sarebbe rimasto abbandonato a se stesso rovinandosi in qualche vicolo di New York se la donna di servizio in una lettera a me diretta e dopo lunghi giri arrivata alle mie mani solo l'altro ieri non mi avesse raccontato tutta la storia non dimenticando di descrivermi mio nipote e dandomi il nome della nave se avessi in animo signori di trattenerli ancora potrei leggere alcuni passi della lettera e così dicendo tirò fuori di tasca e agitò due grandi fogli coperti da una fitta scrittura sono sicuro che farebbe loro un certo effetto la lettera è piena di un'ingenua gentile furberia e di un grande affetto per il padre del bambino ma non voglio trattenerli più di quanto necessario per spiegare la cosa né voglio offendere sentimenti che mio nipote forse prova ancora se lui vorrà potrà leggere per sua istruzione la lettera nella camera tranquilla che già lo aspetta Carlo non sentiva più niente per quella ragazza nella nebbia di un passato che ci faceva sempre più incerto la vedeva seduta in cucina i gomiti appoggiati sul piano della credenza se lui entrava per prendere un bicchiere d'acqua per il babbo o fare qualcosa per la mamma non lo abbandonava con gli occhi a volte di fianco alla credenza in posizione scomoda scriveva una lettera e sembrava ispirarsi al volto di Carlo altre volte teneva una mano sugli occhi e non c'era modo di farsi ascoltare oppure nella cameretta vicino alla cucina pregava inginocchiata davanti a un crocifisso di legno Carlo vedendola attraverso l'uscio socchiuso provava una specie di vergogna oppure correva per la cucina e se Carlo le impediva di passare balzava indietro ridendo come una strega oppure chiudeva la porta dopo che Carlo era entrato e stringeva la maniglia finché lui non chiedeva di andarsene a volte prendeva una cosa di cui lui non sapeva che fare e gliela premeva in silenzio nelle mani una volta infine disse Carlo quindi con buffe smorfie e sospiri lo portò tutto stupito nella cameretta chiudendo a chiave la porta lo abbracciò fino a togliergli il respiro e continuando a chiedergli di spogliarla gli tolse tutti i panni di dosso poi come in preda a una frenesia lo mise a letto quasi volesse averlo tutto per sé accarezzarlo e cullarlo fino alla fine del mondo Carlo mio Carlo esclamava come lo considerasse una cosa sua e non si stancasse di ripeterlo ma lui non vedeva niente aveva solo un gran caldo sotto il mucchio di coperte che lo copriva la donna gli si stese vicino e gli chiese di rivelarle certi segreti al suo silenzio non si capiva se per scherzo o sul serio si arrabbiò lo scosse volle sentirgli il cuore gli offerse il petto perché lui facesse lo stesso senza però convincerlo premette il ventre nudo contro il suo frugò fra le sue gambe in modo così ripugnante che Carlo prese battere la testa sui cuscini poi gli dette alcune spinte con il ventre lui ebbe l'impressione che la donna fosse diventata una parte di sé forse per questo lo prese un terribile bisogno di soccorso tornò piangente nel proprio letto dopo che quella gli ebbe ripetuto mille volte a rivederci questo era stato tutto ma lo zio era riuscito a farne un caso straordinario la cuoca dunque aveva pensato a lui e aveva avvertito lo zio del suo arrivo era stata gentile un giorno le avrebbe mostrato la sua riconoscenza e ora esclamò il senatore voglio sentirti dire chiaro e tondo se sono stato o no tuo zio fai stato mio zio disse Carlo baciandogli la mano e ricevendo un bacio sulla fronte sono felice di averti incontrato ma sbagli se credi che i genitori parlano sempre male di te il tuo discorso conteneva qualche altra inesattezza le cose voglio dire non andarono come tu hai raccontato di qui si capisce non puoi avere un'idea esatta di tutto se poi i signori hanno saputo particolari non proprio precisi pazienza la faccenda non può avere per loro grande importanza ben detto disse il senatore portò Carlo davanti al comandante che manifestava apertamente la sua simpatia e chiese non ho un nipote in gamba sono felice disse il comandante inchinandosi come fanno solo le persone che hanno avuto un'educazione militare di aver conosciuto suo nipote signor senatore è un onore per la mia nave che un simile incontro sia avvenuto a bordo il viaggio sotto coperta fu duro ma come sapere chi si trasporta facciamo del nostro meglio per rendere tollerabile il viaggio sotto coperta facciamo molto di più va detto delle società americane ma purtroppo non siamo ancora riusciti a trasformare questo viaggio in quel che si dice un piacere non mi ha rovinato disse Carlo non l'ha rovinato ripetei con una risata il senatore ho paura solo di aver perso la mia valigia a questo punto si ricordò di quello che era successo e di quello che ancora restava da fare nel girare lo sguardo vide che i presenti sempre ai loro posti lo fissavano muti per il rispetto e lo stupore solo i visi severi e soddisfatti dei funzionali del porto lasciarono trasparire a rammarico per essere arrivati così a sproposito l'orologio che si erano messi davanti sembrava contare più di quanto succedeva o sarebbe successo nella sala il primo a congratularsi dopo il comandante fu guarda caso il fuochista mi complimento di cuore disse stringendo la mano a Carlo quasi con l'aria di dare la sua approvazione era sul punto di rivolgere le stesse parole al senatore ma questi come se il fuochista abusasse dei suoi diritti fece un passo indietro e l'altro desistette a questo punto tutti si resero conto di quanto dovevano fare creando una gran confusione Carlo ricevette le congratulazioni di Shubal e le accettò ringraziando quando la calma fu tornata si fecero avanti i funzionali del porto e dissero due parole in inglese che suonarono molto ridicole il senatore per assaporare fino in fondo la sua gioia continuava a rievocare fatti quasi insignificanti tra l'indulgenza anzi tra l'interesse generale riferì che in previsione di un impiego immediato aveva copiato sul tacuino i più caratteristici segni di riconoscimento di Carlo ricordati nella lettera della cuoca durante la chiacchierata interminabile del fuochista tanto per passare il tempo aveva cercato di riferire le note della cuoca non certo precise come quelle di un poliziotto all'aspetto di Carlo e così ho trovato mio nipote concluse con un tono che pareva sollecitare altre congratulazioni e ora che succederà del fuochista chiese Carlo passando sopra l'ultimo racconto dello zio nella posizione in cui era credeva di poter dire tutto quello che pensava il fuochista avrà quel che si merita disse il senatore quello che il comandante ritiene giusto del fuochista ne abbiamo ormai tutti i signori qui presenti saranno d'accordo fin sopra i capelli non è questo che conta quando si tratta di rendere giustizia disse Carlo parlava tra lo zio e il comandante e questa posizione gli dava forse la sicurezza di avere in mano la faccenda il fuochista non sembrava sperare più niente aveva infilato le mani sotto la cintola che i suoi movimenti avevano scoperto insieme con un pezzo di camicia a righe non gliene importava aveva raccontato tutte le sue pene vedessero pure i quattro stracci che portava addosso prima di buttarlo fuori pensò che a rendergli questo servizio sarebbero stati il commesso e il shubal le due persone di rango più basso nella sala shubal sarebbe stato in pace non si sarebbe più disperato come aveva eglesiamente detto il cassiere il comandante avrebbe potuto ingaggiare una quantità di rumeni ovunque si sarebbe parlato rumeno e forse tutto sarebbe veramente andato meglio non ci sarebbe più stato un fochista a fare chiasso alla cassa anche se ci si sarebbe ricordati volentieri della sua ultima protesta perché come aveva spiegato il senatore essa era stata l'occasione per il riconoscimento del nipote il ragazzo aveva cercato in precedenza di essergli utile e si era quindi più che sdebitato per il servizio che lui gli aveva reso il fochista non pensava nemmeno di chiedergli qualche altra cosa in fin dei conti anche se era nipote di un senatore non era ancora comandante l'ordine fatale doveva uscire dalla bocca del comandante coerentemente con le sue idee il fochista cercava di non guardare dalla parte di Carlo ma purtroppo in quella sala piena di nemici i suoi occhi non avevano altro luogo sul quale posarsi non fraintendere disse il senatore a Carlo può darsi che sia una questione di giustizia ma si tratta anche di disciplina per tutte e due le ragioni ma specie per l'ultima la pratica è di competenza del comandante proprio così mormorò il fochista chi notò e capì sorrise stupito per di più il comandante per causa nostra ha perso molto tempo ora che con l'arrivo a New York ha più da fare dobbiamo andare via subito non vorrei che un nostro intervento dal resto inutile nella lite di due macchinisti finisse col creare un putiferio capisco il tuo modo di agire caro nipote ma proprio per questo mi sento autorizzato a portarti subito via le faccio calare in mare una barca disse il comandante senza obiettare niente con meraviglia di Carlo alle parole dello zio che in fondo si era quasi umiliato il cassiere si precipitò allo scrittoio e telefonò l'ordine del comandante al nostro uomo il tempo stringe disse Carlo tra sé ma non posso far niente se non voglio offendere tutti non posso lasciare lo zio appena mi ha trovato il comandante è gentile ma non di più la sua gentilezza finisce dove comincia la disciplina lo zio ha visto giusto con Shubal non voglio parlare mi dispiace persino di avergli dato la mano gli altri non contano niente rimuginando nella testa questi pensieri si avvicinò piano al fochista gli sfilò la destra dalla cintola e giocherellando con le dita la tenne tra le sue perché non dici niente chiese perché ingoi tutto il fochista corrugò la fronte nello sforzo di esprimere quanto aveva in animo e intanto guardava la sua mano tra quelle di Carlo so bene che ti hanno trattato come nessuno su questa nave Carlo teneva le sue dita infilate tra quelle del fochista e questo si guardava intorno con gli occhi lucidi come se nessuno potesse rimproverarvi il piacere che provava e invece ti devi difendere dire sì e no altrimenti la gente non saprà la verità prometti che mi darai retta perché ho paura di non poterti più aiutare Carlo piangeva baciando la mano screpolata del fochista questa pendeva inerte e lui la premeva contro il viso come un tesoro che si è costretti ad abbandonare a questo punto lo zio senatore gli si avvicinò e lo allontanò con garbo il fochista a quanto pare ti ha incantato disse guardando con aria d'intesa il comandante al di sopra della testa di Carlo ti sentivi abbandonato e hai incontrato il fochista ora gli sei grato di questo bravo ma non esagerare fallo per me comincia a capire la tua nuova posizione dietro la porta si alzò un gran baccano si sentirono grida qualcuno fu spinto brutalmente contro l'uscio irruppe dentro un marinaio con l'aria stralunata un grembiule da donna intorno alla vita c'è gente là gridò continuando a tirare gomitate quasi dovesse ancora farsi largo quando fu tornato in sé e volle salutare il comandante si accorse del grembiule se lo strappò di dosso lo gettò per terra e gridò è una vergogna mi hanno messo addosso un grembiule quindi sbatte i tacchi e salutò qualcuno provò a ridere ma il comandante disse severo davvero un bello scherzo chi c'è di fuori i miei testimoni disse Shubal facendosi avanti faccio le scuse più profonde per la loro condotta quando i marinai arrivano in porto certe volte diventano matti li faccia subito entrare ordinò il comandante e volgendosi verso il senatore disse in modo cortese ma sbrigativo abbia la bontà illustre signor senatore di seguire con suo nipote questo marinaio che li accompagnerà fino al battello non serve che le ripeta che la sua personale conoscenza ha rappresentato per me un onore e un piacere mi auguro di riprendere presto la conversazione sulle condizioni della marina americana speriamo chissà di essere interrotti nello stesso modo piacevole di oggi per ora questo nipote mi è sufficiente disse ridendo lo zio ma ringrazio di cuore per la sua gentilezza non è da escludere che in occasione del nostro viaggio in Europa estrinse affettuosamente Carlo a sé possiamo intrattenerci più a lungo ne sarei molto lieto disse il comandante i due si strinsero la mano Carlo poteva appena porgere la sua in silenzio al comandante perché questi aveva già rivolto l'attenzione su una quindicina di uomini entrati un po' cerimoniosi ma rumorosamente nella sala sotto la guida di Schubal il marinaio chiese al senatore il permesso di precederli aprì la strada e li fece uscire senza difficoltà tra la gente che si inchinava sembrava che quegli uomini dall'aspetto bonario considerassero la lite tra Schubal e il fuochista una faccenda ridicola che tale rimaneva davanti al comandante Carlo notò Lina la ragazza di cucina che lo salutò ammiccando allegra mentre si allacciava il grembiule buttato via dal marinaio lasciato l'ufficio girarono in un breve corridoio e finirono davanti a uno sportellone una scaletta scendeva in una barca già pronta la loro guida saltò in barca i marinai si alzarono e salutarono il senatore stava invitando Carlo fermo sul primo gradino a fare attenzione nella discesa quando il ragazzo scoppiò in un gran pianto lo zio gli mise una mano sotto il mento lo abbracciò e accarezzò scendendo ad agio un gradino dopo l'altro arrivarono abbrazzati nella barca dove il senatore scelse per Carlo un buon posto davanti a sé quindi a un suo cenno i marinai si staccarono dalla nave e cominciarono a vogare di lena si erano appena allontanati quando Carlo riconobbe sul fianco della nave le tre finestre della cassa nelle quali si stipavano salutando calorosamente i testimoni di Shubal lo zio li salutò a sua volta un marinaio riuscì a lanciare loro un bacio con la mano senza interrompere il ritmo della voga era come se non ci fosse più nessun fuochista Carlo fissò negli occhi lo zio di cui sfiorava le ginocchia chiedendosi se quel buomo gli avrebbe mai potuto sostituire il fuochista ma lo zio distolse lo sguardo e cominciò a guardare le onde sulle quali la barca avanzava uscillando grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti